Nei prossimi giorni potrebbero esserci sufficienti elementi che daranno maggiore chiarezza sul problema del ponte Margherita di Dragoni, chiuso da quasi sei mesi. La sua riapertura è ormai vitale per l'economia locale, fatta prevalentemente da piccoli e medi imprenditori. Ad assicurarlo è lo stesso presidente del comitato proponte, Pino Della Rossa. Ho avuto assicurazioni in merito da parte del consigliere Alfonso Sant'Acada del comune di Alife, dice Della Rossa, che sta lavorando a stretto contatto con il consigliere regionale Gennaro Oliviero per questa vicenda. Nei prossimi giorni l'onorevole Oliviero ha anche chiesto un'audizione alla Commissione Grandi Rischi della Regione Campania, alla quale parteciperanno anche il presidente della provincia di Costanzo, il sindaco di Dragoni-Lavornia, quello di Alife Cirioli e il comitato proponte. Per cui, conclude Della Rossa, a margine dei lavori sapremo qualcosa in più. Grazie a tutti. Grazie a tutti.